Marco Sacco, Gente di Lago, l'edizione 2024. Che cosa aspetta il pubblico che sarà sull'isola e che parteciperà poi a tutti gli altri eventi? Beh, di sicuro si aspetterà novità, saranno tante, ma due fondamentali. Una che il sabato sera siamo a Pallanza con la Mixology e quindi lì entriamo in un mondo più giovane e il nostro pensiero è ovviamente l'arte del bere bene. Non ubriachiamo nessuno, ma facciamo vedere quanti bei prodotti abbiamo mischiando e miscelando. E poi Singapore, questi quattro chef che arrivano a Singapore e dedicano il piatto di Gente di Lago e di Fiume che è una cultura completamente diversa dalla nostra isola, che è l'isola dei pescatori, là è l'isola di Singapore, ma chissà che cosa nascerà. Quindi, Gente di Lago e di Fiume, queste sono le due novità un po' clou e un po' che attendiamo perché dobbiamo capire che succederà. E poi vabbè, ovviamente è martedì, martedì con gli avanotti, questi 500 ragazzi delle superiori che vengono ad ascoltare i relatori sarà fantastico. I ragazzi sono la nostra fonte di ossigeno, sono fondamentali.